Nel 1553, presso Porta San Laurentino, fu ritrovata la grande statua in bronzo raffigurante la mitica Chimera, databile agli inizi del IV secolo a.C. La statua presenta, lungo la zampa anteriore destra, l'iscrizione Tintz-Kvill, la quale è stata incisa direttamente sul modello in cera prima della fusione. Tale parola, composta dai termini Tintz-Kvill, è stata generalmente intesa come dono a Tina, seppure si propenda ora verso il significato più generico di offerta. È stato ipotizzato che la scultura, isolata o assieme al suo avversario Bellerofonte, fosse un dono per un importante santuario suburbano, forse dedicato al medesimo Tina, come lascerebbero intuire altri bronzetti votivi rinvenuti assieme alla più grande scultura. L'iscrizione rientra in una serie di testi etruschi che indicano il dono di un oggetto alla divinità. In età arcaica, il testo di Dedica conteneva il nome e il verbo usato nel dono fra uomini, esplicitando così una pratica che ricalcava quella in uso fra gli aristocratici. Era invece assente il nome della divinità, pertanto sottinteso. Successivamente, e su influsso greco, la formula cambiò e si fece sempre più ricorrente il nome della divinità. Tale nuovo formulario rientrava in una pratica di ex voto legata a grazie ricevute o risposte oracolari. Nella chimera, l'isolamento della parola Tinksville costituisce il massimo della stringatezza e della discrezione della Dedica votiva. L'assenza del donatore potrebbe suggerire una collettività pubblica e la divinità, in questo caso sottintesa, deve essere stata quella venerata nel santuario. L'iscrizione della chimera presenta lettere in uso nell'Etruria meridionale, come dimostra la presenza del Gamma, e settentrionale insieme. Questa peculiarità agli inizi del IV secolo a.C. è forse da legare a una maestranza itinerante composta di artigiani magnogreci ed etruschi provenienti dall'area tra Orvieto e Veio, o dai vicini territori falisci, che operarono ad Arezzo attirati dalle possibilità economiche della città.